Noi italiani viaggiamo tanto, andiamo in Africa, andiamo in Cina, adesso abbiamo scoperto l'India, andiamo alle Maldive, ma il paese nostro non lo conosciamo. Perché? Perché diciamo, vabbè sto a Roma, prima o poi la vedrò, ho un parente a Milano e ci andrò prima o poi, per quanto riguarda la mia terra, beh ci sono nato e ci tornerò, e poi passa il tempo e non conosciamo niente. E invece gli stranieri sono sempre venuti in Italia, famosi e nonni, hanno amato il nostro paese. Ecco, noi adesso faremo un viaggio per farvi conoscere questo nostro paese, quante belle cose ha, com'era e com'è, quanti personaggi importanti possiede. Certo, non potremo presentare tutto, perché come diceva Napoleone, l'Italia è stretta e lunga, ma ci proveremo in qualche modo. Questo è il mio mezzo di trasporto, attraverso il quale viaggeremo per presentarvi questo nostro grande paese. Inizia a partire da questo momento il nostro viaggio. Sentite...